Un attimo, più uno, più uno, dai. Speriamo che ho visto una gonna che c'è alzata in maniera... 26 aprile 1986, Cernovino. 11 marzo 2011, Fukushima. La storia si ripete. Il 12 e 20 luglio andate a votare per il retteremo. Il 12 e il 13 giugno andate a votare 6 sì per dire no. Diciamo sì al referendum. Il 12 e il 13 giugno andate a votare 6 sì per dire no. Tornato Collegas. Grazie.